ciao Gianni, come ti sta? bene? senti che ti domando, siccome sono in pensione, ho tempo libero, adesso posso finalmente eser qualche libro? non ho detto niente, tutta la vita sa neanche ora, dico che ti esi tanto, ti metto a qualche titolo, cosa ti dici? grande! e ora cominciamo con russo, il maestro a santa margherita, il maestro di spacciatori, la storia del maestro dei spacciatori, dopo di me, Kafka, il più cesso, il più cesso, è la storia del sindacone, di me, di me, tirandello, uno, nessuno e cento euro, ah prima c'era centomila e adesso c'è cento euro, giustamente, giustamente, dopo di me, figgera, il grande gasbo, e se quando che cazzo appaia molto a casa, l'abbonamento, il grande gasbo, dimmi dopo, il buio oltre le seppe, buio, nero oltre i seppe, eh, vabbè, dimmi, un altro lusso, guerra e poccio, e fai guerra sul fango, eh, fai, dimmi, dimmi, un altro, cima e tempestina, eh, ti vedi? Sì, che è stato tutto a minestrino, che ha fatto piramidi, dimmi, 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 il vecchio e suo mare, se ne vede ciò, ti è mamma, se ne vede ciò, ti è mamma, eh, dimmi un altro, libro, dai, l'isola del Tesboro, e cos'è, parla di a Giudecca, e parla di a Giudecca, eh, dimmi, dimmi un altro, Anna Carena, e sì, storia di una piota che guida i battagli, Carena, vabbè, dall'ultimo all'ultimo, vai, aspettando Goldon, te credo io che ti aspetti, ti credo Goldon, va bene, grazie Gianni, ciao, 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 Gianni, vuoi cominciare, non sognato il titolo, è meglio che mi passa di la partidone, è una nuova, grazie. Grazie.